Salve ragazzi, adesso vi presenteremo un gioco di nome... Eeeh... Freddo il bollo Questo gioco è un gioco su un gallo Che deve fare le tue avveniglie Liberando dei palloncini e altri dei diamanti Questi diamanti si trovano in una scossa e lunga Ci sono bombe che ruotano nei circolari passaggi Ci sono... Gumbi da rompere che danno cose speciali E ci sono diversi cubi che possono essere attivati Prevendo dei pulsanti rossi E facendo apparire una stella in mezzo a un rombo giallo Rosso in mezzo a un quadrato giallo Vi dico che il gioco è molto difficile Infatti sembra molto complicato Perchè deve cercare delle rompere Che gli daranno dei punti in base a come fa questo gioco Deve raccogliere un sacco di diamanti E' una cosa importante Deve premere dei pulsanti per far andare una nuvola Sopra a una cosa Oppure evitare due seghe in mezzo a una cosa Che le seghe lo taglieranno se non vanno attenzione Oppure andare su un lattorello speciale E portarlo su una specie di palloncini Ogni palloncino che lo troverà Oppure facendoci male a non farti colpire dalle bombe Perchè sarà molto difficile come mezzo Vi dicevo che come gioco ha una bellissima grafica Un bel sottofondo di musica Un bellissimo Una bellissima grafica Un bellissimo sfondo che c'ha inoltre al gioco come mezzo Comunque vi dicevo che i livelli Anche se sembrano belli con lo sfondo E' molto difficile fare il gioco Perchè è quello che dovete fare E dovete liberare palloncini Dovete raccogliere i diamanti E dovete fare le cose più impossibili che dovete fare Per esempio, affrontare Mecca Sheepin Oppure salvatare tutti i punti O di queste cose rosse Oppure evitando queste rumore che vi sparano Addosso dei paesi Oppure subo dove stanno con 200 che poi Ö said già Le diventano rosse E come vi dicevo non è una cosa molto difficile Devo diamoindustrie Ciao, ci vediamo